Musica Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e come sempre ragazzi un bel video di tutta la patch 14.10 Che è arrivata da pochi minuti Un miliardo di cose da vedere, non riesco neanche a dirvele tutte nel prologo Ma ringrazio tutti i ragazzi che ogni giorno utilizzano il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali E soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news E allora andiamo direttamente a vedere tutto quello che abbiamo trovato E sbada bam Si parte con una cosa davvero incredibile La nuova minimappa Che mostra questo cerchio gigante Con colorazioni gialle e rosse E voglio farvi vedere Che cos'è ma alla fine del video È una nuova location Enorme ragazzi, davvero tanta roba Probabilmente apparsa appunto Dal cerchio Che hanno creato i Rift Beacon Andando avanti tutti i possessori della skin Oblivion troveranno una nuova variante La variante gold Sia per la skin Che ovviamente per il suo backpack Quindi un regalo sempre apprezzato Per poterla customizzare Un pochettino di più Arrivano anche le nuove emote Delle quali purtroppo Non abbiamo ancora gli spezzoni video Ce ne sono 4 di nuove emote Questa è semplicemente una Le altre avevano veramente una brutta risoluzione Ho preferito lasciar perdere E attenzione Perché tra le grandi notizie di questa patch 14.10 Arriva anche il nuovo pack Per i possessori di IPS Plus Potete tranquillamente riscuotere 3 oggetti Che vi verranno inseriti gratuitamente Nel vostro inventario Il primo Una copertura ragazzi Patroller mi sembra che si chiami questa copertura Il secondo Ve lo faccio vedere fra poco Sarà un piccone E poi ci sarà anche un adesivo Ne approfitto per farvi comunque vedere Tutte le 8 coperture Che sono state trovate Nei file di gioco Questa è veramente molto carina Queste sono quelle zuccherine Mi sembra di averne già vista una simile Sinceramente Questa credo che sia ancora Quella di Silver Surfer Che è dentro ma non è ancora stata rilasciata Ne abbiamo invece un'altra Azzurra e rossa E per terminare Quella probabilmente dedicata A Wolverine Eccolo qua ragazzi Il piccone di cui vi ho parlato Pochi secondi fa Sempre facente parte Del pack PS Plus Insieme al nuovo Adesivo What? Con lui che alza Le cuffie Insomma Sapete benissimo come riscattarli Lo troverete dallo store E saranno disponibili Prestissimo Un altro nuovo piccone ragazzi È proprio questo Non mi ricordo il nome Ma ha tre stili Viola Blu E arancione Probabilmente lo troveremo Associato a qualche skin E poi a proposito di skin Arriva un nuovo bundle Come vedete ragazzi Sono tre skin Che già conosciamo benissimo La femmina Del ragno Muscia E porcomondo Non mi ricordo come si chiama lui Ma è quello praticamente Che è in due colorazioni Arancio E azzurro È nuovo Io più che nuovo bundle Mi auguro Che magari siano degli stili Anche se ho un pochettino paura Abbiamo proprio delle immagini In realtà che Purtroppo Confermano Che si tratterà Molto probabilmente Di qualcosa da Shoppare Spero almeno non Con soldi veri E come vedete appunto Colorazione rossa E colorazione Bianca E andiamo avanti Perché c'è un altro set Enorme Che sta per arrivare Dedicato Ad una sezione Molto importante Di cui tratteremo Proprio in questo momento Nel video Ovvero sia I supereroi Supereroi che rimangono Ovviamente i mitici Quelli della Marvel Ma che arrivano anche In maniera Un pochettino più Come dire Fake Passatemi il termine Quelli Quelli Sono i supereroi domestici Ragazzi Dai Tutti si possono mettere Una calza maglia Correre in giro per le strade A fare i deficienti Ne vediamo ragazzi Alcuni qua Ve li faccio vedere Un pochettino meglio Non ne so Non so ancora i nomi Però sono davvero carini E molto probabilmente Sarà Una serie Da nove Perché sono Quattro uomini E cinque donne Anche se in realtà Questa skin Che proprio vi sto facendo vedere In realtà Non dovrebbe far parte Di questo set Ma sarà La skin Dell'eroina Che potrà Essere Personalizzata Ve lo faccio vedere Tra pochi secondi Terminiamo un attimo Guardando Tutto l'elenco Dei Dei vari supereroi Che appunto Arriveranno Tra pochissimo Un nuovo pack musicale Anche dedicato Alla musica Della vittoria Quella che avete in mente Tutti Quella che fa Down 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 Non fa proprio così Però fa così E quindi arriverà anche questo Probabilmente nello shop Un nuovo standard Del quale non si sa bene La provenienza Probabilmente sarà Qualcosa dedicato Alle sfide Di qualche eroe Ed ecco qua ragazzi Il L'immagine di cui vi parlavo Poco fa Il nuovo La nuova customizzazione Dell'eroe In realtà Ne avevamo già parlato In qualche video fa Tre o quattro video fa Avevano trovato Una nuova voce Nell'armadietto Che si chiamava Customize Customize Your Hero Quindi personalizza Il tuo eroe Come vedete Una serie di capigliature Le maschere Le colorazioni La cintura E abbiamo anche Porca vacca Questa ve la faccio vedere dopo Appunto la possibilità Di andare a personalizzarlo Infinite volte Quindi potrete cambiargli Veramente Tutto Quattro anche I nuovi poteri Che sono stati trovati Il primo ovviamente È chiarissimo È quello di Wolverine Poi abbiamo quello di Pugno che spacca la pietra Non so che cavolo sia Abbiamo quello di Iron Man Mi viene in mente Che sia lui Perché noto La parte meccanica Del braccio E il raggio Che esce dalla mano E questo Secondo me È un altro potere Del Doctor Doom Però Non mi espongo Purtroppo non abbiamo Le descrizioni Basterà semplicemente Giocare a Fortnite E non appena saprò qualcosa Lo saprete anche voi Nuova card In arrivo Come vedete Sopra c'è stampato Iron Man Sappiamo benissimo Che doveva arrivare La nuova location Dedicata a Tony Stark E così è stato Gli Stark's Lab Arriveranno Nell'enorme Nuova isola Che sembrerebbe Essere fluttuante E appunto Stata generata Dai Rift Beacon Ho delle immagini Ve le faccio vedere Tra poco Ma prima ragazzi Un'altra grandissima Novità Il secondo bundle Di Nintendo Switch In collaborazione Con Fortnite Il primo vi ricordo Ovviamente Era la Double Elix Rarissima Questa invece È la skin Che è Wild Kate Mi sembra che Si chiama Will Cat Scusatemi Presente Da tantissimi mesi Nei file di gioco Ma non si era ancora capito Dove doveva essere inserita E finalmente Ragazzi Abbiamo capito Faceva parte Del bundle Della Switch Lo troverete sicuramente Nei negozi GameStop E cose del genere Quindi Una bellissima skin Che sicuramente Diventerà Molto rara Ed ecco qua L'immagine Di cui vi parlavo poco fa Ragazzi La schermata che troveremo L'editing Del nostro eroe Potremo personalizzare Veramente tante cose La trama Innanzitutto Della calzamaglia La colorazione La capigliatura La mascherina E tante Tante altre cose Penso a parer mio Che sia veramente Una cosa Meravigliosa Perché Come vi avevo già detto Come dicevo già in live A differenza di Maya Che quindi una volta Che la customizzavi Quella era E del custom ombrello Che ha avuto La stessa funzionalità Poter editare Una skin Infinite volte È una mossa Veramente Molto intelligente Quindi Oltre che essere appunto Carino il fatto Di poterla cambiare Sempre Quindi non vedo l'ora Di vedere La nuova Il nuovo eroe Da personalizzare Ed ecco qua ragazzi L'immagine Che vi ho tenuto Quasi per ultima Una delle chicche Di questo video news Perché Guardate che cosa È stato Teletrasportato Dai rift beacon Che si sono Ormai Credo Esauriti Perché nel video news Di questa mattina Abbiamo visto che I rift erano entrati Nella fase States over E appunto Dopo aver terminato La fase Hanno sponato Questa roba È enorme È veramente Enorme E al suo interno Ha le industrie Di Tony Stark Quindi si rivaluta Un secondo L'idea Che l'autorità Rimanga l'autorità E le industrie Tony Stark Rimangano queste Sappiamo anche Che avendo una card Di Iron Man Ci sarà probabilmente Anche un volt Da aprire E quindi Tanta tanta roba Abbiamo anche un'altra immagine Da un'altra angolazione Devo dire che Se torniamo un secondo Indietro E guardiamo La dimensione Di quest'isola È allucinante Ragazzi Anche perché Credo che Non è che la possono Poi appoggiare Sulla mappa Quindi credo Rimarrà fluttuante Chissà per quanto Insomma ragazzi Questa era tutta la patch 14.10 Tutte le cose più importanti Ovviamente Nei video news Dei prossimi giorni Vedremo nel dettaglio Le cose che Sono state modificate E che magari Non hanno un'immagine Ragazzi di Twitch Guardate che rimango In live adesso E mando solamente L'outro Io vi ringrazio a tutti Per aver guardato Questo video Mi trovate ovviamente In live su Twitch Non me ne sto andando Ciao Iron Man Iron Man Mi spona l'isolotto Iron Man Iron Man Aveva il cagotto Iron Man Iron Man Cosa cacchio fai? Non puoi sponare l'isoletta Dai Mancano ancora Tre secondi Hai Dieci minuti e tre Ciao No Mai Non puoi sponare l'isoletta